E' raro vedere otto cerchioni posizionati in fila lungo il marciapiede, eppure lo scenario che si è presentato in via Gentile da Fabriano, la strada parallela alla ferrovia in zona Sassonia, dopo le piogge dei giorni scorsi infatti, sono diverse le persone che hanno pubblicato sui social network commenti e foto di pneumatici senza cerchioni. Secondo un passante residente in questa via, la causa di tutto ciò sarebbe una buca che era qua fino a ieri, infatti come potete vedere è stata rattoppata e c'è del catrame che è fresco, forse fresco di giornata. E la conferma ci è arrivata dall'assessore Fanesi, gli operai si sono recati stamattina sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino. Spesso infatti le strade piene di buche e la segnaletica assente possono provocare un disagio per chi è alla guida e a volte possono diventare un vero e proprio pericolo causando incidenti di diverse entità. Ecco che diventa importante comunicare i problemi inerenti alla viabilità a chi di dovere e in questo caso agli uffici comunali. Il procedimento è semplice, basta digitare il sito comune.fano.ps.it, scorrere nella home verso il basso e cliccare su come fare una segnalazione. Una volta aperta la pagina troverete tutte le informazioni necessarie dai numeri di telefono agli indirizzi mail. Intanto Fanesi ricorda che l'asfaltatura di questa strada è inserita nel prossimo piano di asfaltature che prenderà il via a primavera.